Il fenomeno dell'immigrazione, si è parlato di questo nella sala Fabrizio De Andrè di Palazzo Bianchi ad Adrano ad intervenire Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ed europarlamentare, relatore Angelo Villari mentre a moderare è stato il giovane Adranita Giuseppe Cantarera, organizzatore dell'incontro. Un tema che è su tutti i tavoli, devo dire, anche a livello europeo, perché il fenomeno dell'immigrazione devo dire che è un fenomeno importante, un fenomeno che da tempo non è iniziato adesso io ricordo che è iniziato nel 91 quando io ero medico appena arrivato a Lampedusa e da quel momento me ne sono occupato e ancora oggi continuiamo a parlare di emergenza a sbarchi quando invece dovremmo pensare che si tratta di un fenomeno strutturale quindi affrontarlo in questa maniera, cioè dire, farsi in una ragione è un fenomeno che è sempre esistito, esisterà sempre e quindi bisogna affrontarlo nel modo più corretto possibile noi l'abbiamo affrontato in tutti questi anni noi parliamo di Europa in modo quasi ostile non c'è stata mai una governance del fenomeno dell'immigrazione nella maniera corretta ma c'è stata sempre una certa ostilità devo dire che noi ci siamo distinti come Italia qualcuno ce l'ha pure riconosciuto Schulz ha detto che noi abbiamo fatto onore all'umanità con Lampedusa, con la Sicilia che effettivamente dal punto di vista dell'accoglienza è stata straordinaria purtroppo abbiamo peccato e continuiamo a peccare nella seconda parte c'è quella dell'integrazione dobbiamo lavorare per questo ne abbiamo la possibilità e le capacità certamente il fenomeno della migrazione adesso viene riportato anche a livello europeo e là abbiamo dei problemi perché sono parecchi paesi della comunità europea che sono state sempre contrarie addirittura hanno chiesto fondi all'Europa per la costruzione di muri cose che stanno costruendo filo spinato e quindi come dire una politica completamente sbagliata perché non si basa sui principi su cui nasce invece l'Europa la solidarietà, l'accoglienza, la fratellanza e quindi il rispetto dei diritti umani il rispetto dello stato di diritto quindi dobbiamo lavorare sto lavorando per questo anche perché il fenomeno della migrazione che esiste e usisterà sempre certamente dobbiamo fare in modo che invece queste persone che arrivano non devono subire delle sofferenze umiliazioni addirittura rischiare di morire molti muoiono non solo nel canale di Sicilia non solo nella rotta del Mediterraneo ma anche la rotta balcanica che io conosco bene perché sono andato in missione a vedere quella rotta cioè dire quella che partendo dalla Turchia arriva in Grecia e dopodiché risale lungo la Bosnia-Herzegovina quindi Croazia, Slovenia, Italia e di conseguenza verso il cuore dell'Europa purtroppo sono delle rotte pericolosissime dove queste persone vengono derubate picchiate, violentate, sfruttate e poi abbiamo l'ultima rotta quella che abbiamo in questo periodo già da un paio d'anni che ha raggiunto il picco proprio e quest'anno, cioè l'anno scorso nel 2000, ovviamente l'anno passato con la rotta della Bielorussia verso la Polonia dove io sono stato, devo dirvi sono stato anche in quella foresta dove queste persone vengono, come dire, lasciate a morire in una situazione veramente drammatica disumana con un comportamento, devo dire del governo polacco perché dobbiamo fare un distinguo quando parliamo di popolo non dobbiamo parlare di Polonia in generale ma dobbiamo parlare del governo polacco perché io ho conosciuto anche il popolo polacco che invece è di grande cuore che vuole, cerca di aiutare queste persone però gli viene impedito dalla polizia viene impedito dal governo polacco quindi praticamente vengono rigettati indietro dalla polizia io ho sentito dei racconti delle cose che veramente sono diciamo non siamo in quella situazione di egoismo o di un paese che si gira dall'altra parte ma un paese ostile tutto questo non ci porterà da nessuna parte e quindi bisogna cambiare paradigma bisogna cambiare strategia bisogna che l'Europa mostri il volto umano più quello ostile perché stiamo parlando di persone donne, uomini, bambini che non hanno nessuna colpa non sono dei nemici non sono degli invasori non portano malattia non vengono a dare fastidio a nessuno ecco se noi abbiamo una visione del genere allora sicuramente possiamo governare il fenomeno della migrazione ecco vedendolo come un'opportunità vedendolo come, come dire, una ricchezza perché sono una ricchezza io sto lavorando per questo ho il dossier che riguarda proprio la migrazione essendo vicepresidente della Commissione Libre e stiamo cercando di trovare la soluzione e dare quelle risposte che l'umanità vuole che queste persone vogliono grazie a tutti